Molto demoralizzati perché non è uscito fuori niente, noi abbiamo fatto un sacco di domande, la popolazione ha fatto un sacco di domande, però ancora ad oggi non abbiamo risposte. Non sono più solamente i genitori di Matrignano a chiedere risposte sul futuro dell'asilo L'Aquilone, ma l'intera comunità che si è presentata al circolino di Stagiano venerdì sera per un incontro pubblico, al quale ha preso parte l'assessore Lucia Tanti, la dirigente del servizio scolastico ed ovviamente le famiglie dei piccoli che frequentano la scuola materna. Noi abbiamo chiesto che siccome l'amministrazione afferma che la scuola è una scuola sicura, che ha bisogno di una messa norma, abbiamo chiesto che i nostri bambini rimangano per il momento dove stanno, ma solo dietro appunto la loro continua rassicurazione che siccome stanno lì fino a giugno possono continuare a starci. Abbiamo chiesto soprattutto una promessa che nel prossimo Consiglio Comunale si impegnino in modo tale che ci siano delle carte, ci siano dei documenti in cui loro ci fanno vedere che hanno una reale volontà di tenere aperta la nostra scuola. La nuova mossa dell'amministrazione presentata alla cittadinanza è quella di accelerare nella direzione di una vera e propria ricostruzione della scuola e non una sua ristrutturazione proposta avanzata al Ministero dell'Istruzione. Abbiamo valutato attraverso gli uffici delle opere pubbliche la possibilità di chiedere la trasformazione del finanziamento da adeguamento a nuova struttura e quindi l'intenzione è quella di tra l'altro con delle ottime possibilità optare per quel medesimo finanziamento non più finalizzato ad un adeguamento perché sembra banale ma costa meno rifarla nuova che sistemarla. Si aggiorna tutto dunque a fine mese data entro la quale sarà fissato un nuovo incontro. Noi tra un mese saremo ancora qui, faremo le stesse domande e questa volta però vorremmo davvero una risposta perché ad oggi non ce l'abbiamo ancora.